Non sono uno storico, non ho idea di come si è fatto. Qual è fra questi? Scelgo per lei. Grazie, professore. Oh, sì. È ancora più splendido di quanto avessi immaginato. Questa è certamente la coppa del re Dele. Vita eterna. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Che cosa sta per succedermi? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Ha scelto molto male. Grazie a tutti.